I carabinieri del nucleo radiomobile di Fano hanno arrestato un uomo e una donna, entrambi cittadini rumeni rispettivamente di 26 e 41 anni, lui senza fissa dimora, lei proveniente da Chieti in Abruzzo, per furto aggravato in concorso di merce all'ipermercato Oshan all'interno del complesso commerciale Fano Center. Erano circa le 4 di pomeriggio quando il personale di vigilanza dell'ipermercato si è accorto che la coppia, con fare furtivo, si era impossessata di oltre 70 confezioni di batterie di marca Duracell e di circa 20 confezioni di dolciumi per un valore di mercato di oltre 400 euro. La coppia, ripresa dalle telecamere, ha prima riposto la merce all'interno di una borsa per la spesa di colore verde e poi si è divisa. La donna è andata nei pressi di una cassa per pagare una singola confezione di assorbenti, mentre il ragazzo con la borsa è uscito dal varco senza acquisti. Immediata però è scattata la chiamata ai carabinieri che arrivati sul posto hanno bloccato la coppia e l'hanno accompagnata in caserma per gli accertamenti di rito. La chiarezza delle immagini, la refurtiva rinvenuta e subito restituita all'ipermercato, nonché le testimonianze del personale di vigilanza hanno portato i militari ad arrestare la coppia. Nella mattinata odierna si è svolta l'udienza di convalida per entrambi, è scattato il divieto di dimora nell'ambito dell'intera regione Marche. Alla donna, però regolarmente residente sul territorio italiano, a differenza del giovane, è stata anche notificata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Fano per un periodo di tre anni, provvedimento richiesto e subito rilasciato dalla questura di Pesaro Urbino. Grazie. Grazie.